Grazie a tutti. Sotto l'aspetto occupazionale. Vorrei fare una precisazione. Io credo che dobbiamo partire da un tema che l'energia continua a rappresentare ancora in quella che è la modernizzazione del mezzogiorno sicuramente un vincolo in negativo. Quando parlo di mezzogiorno naturalmente parlo anche dalla Sicilia. Un vincolo in negativo tanto che viene individuato anche come un ostacolo all'insediamento di nuove attività produttive. Quindi diventa anche poco attrattiva la condizione sotto l'aspetto degli investimenti che le imprese utilmente non vengono a collocare in questa nostra regione. Questioni che hanno un riflesso naturale sulla partita occupazionale. Discutere oggi qui di un tema così interessante, parlare di una carta del sole, parlare finalmente di una questione specifica del nostro territorio che non sia una questione in negativo. Perché molto spesso siamo al centro dell'attenzione esclusivamente sulle partite negative. Stiamo parlando oggi di una nostra specificità, finora non aggredita così come avrebbe dovuto essere con un progetto particolare. E ne stiamo parlando assolutamente in positivo. E io voglio proprio partire da questo elemento positivo per dire che l'energia più complessivamente invece di rappresentare un vincolo al negativo, finalmente dobbiamo provare tutti quanti a fare in modo che diventi un'opportunità vera di sviluppo per la nostra regione. Naturalmente sfruttando tutte le potenzialità, non solo il segmento di cui oggi parliamo è al centro dell'attenzione, che le fonti rinnovabili in campo ci consentono. Naturalmente sì a partire dall'energia solare, ma c'è un campo e soprattutto la tastiera ampia sulla quale noi possiamo ancora una volta discutere. È chiaro che questa discussione di oggi ha un riflesso sulla partita nazionale, su quanto e come da tempo rivendichiamo da parte del governo nazionale una chiarezza rispetto a quello che deve essere l'indirizzo dentro il quale costruire un piano energetico nazionale. Oggi il ministro poco fa ci ha parlato di diverse sperimentazioni, di senchiventi, però guardate, non è chiaro a tutti davvero verso dove vogliamo andare. È questione che noi rivendichiamo anche nei confronti del governo regionale, dirò dopo a che punto siamo, però non c'è chiarezza da parte del governo nazionale a partire da quelli che sono i meccanismi di incentivazione. Oggi si decide di incentivare un determinato settore, domani di fronte a un quadro normativo così incerto si decide con un decreto di potenziare un altro segmento, sapendo che tra l'altro non sono sciolti i nodi all'interno di un quadro normativo poco chiaro che per quanto ci riguarda hanno poi dei riflessi nella nostra regione, in quella incapacità amministrativa che veniva sottolineata nella nostra regione di sburocratizzare tutto l'iter autorizzativo. Allora se il governo, e questa perplessità la voglio manifestare in concreto anche quando si parla di potenziare le energie rinnovabili, però d'altro canto si sollecitano anche percorsi che hanno attinenza alle trivellazioni, trivellazioni in senso lato che riguardano anche le nostre coste, che per quanto attiene al nostro territorio significa anche un danno, un danno forte dal punto di vista dell'impatto ambientale, delle bellezze paesaggistiche, di tutto ciò che all'interno del tema turismo ha una sua rilevanza. Tra l'altro con una contraddizione, chiudo su questo, che non porta poi a saldo dei vantaggi. Gli svantaggi sono enormi, ma rispetto a quello che si riesce ad estrarre per quantità di petrolio o anche di gas nella nostra regione, non ci paia che interventi di questo tipo in ogni caso siano degli interventi da incentivare. Per parlare ancora di un'altra contraddizione, quest'ultimo decreto sulle incentivazioni mette fuori quelli che erano stati incentivi sul fotovoltaico. Io non voglio difendere né un pezzo né l'altro, però voglio ancora una volta che si facesse chiarezza su quella che è la strada che noi vogliamo intraprendere. Giusto ora che lo stesso fotovoltaico aveva raggiunto il livello della grid parity, per cui insomma eravamo in una condizione positiva rispetto a prima. Dico questo ripartendo da quello che per noi è il tema, dalle energie rinnovabili. Noi pensiamo davvero che possa avvenire nella nostra regione una grande potenzialità di crescita, di sviluppo e quindi di occupazione. Per questo vorremmo che si puntasse sostanzialmente su tutti quei segmenti che sono a più alto impatto occupazionale, che possono portare maggiore occupazione. Non dico che il tema dell'occupazione è prioritario, ma penso che sia importante a parità tra l'altro di costi, rispetto a quello che le varie tecnologie ormai comportano puntare di più e meglio su quelle che possono portare maggiore quantità di occupazione. E allora se le rinnovabili hanno, a partire dal solare, un grande impatto sulla questione economica, e noi dobbiamo anche pensare sulla questione occupazionale, oltre che economica, dobbiamo ragionare anche in un'ottica che abbia riferimento all'energia distribuita. Per noi è molto importante, è un fattore così come diceva qualcuno anche di democrazia. Dobbiamo far partire dal basso la nostra elaborazione, da ciò che serve. C'è anche il tema, non indifferente di un rinnovamento culturale che bisognerebbe fare a partire dai consumatori. Molto importante perché quando parlo di una rivendicazione che attiene alla mancata progettualità dal governo nazionale, poi cado a fagiolo su... avrei voluto che fossero qui anche gli altri due candidati al governo della Sicilia per parlare di una progettualità che non c'è mai stata purtroppo a livello regionale. Guardate, noi come CGL siamo dentro Fred. Fred ha contribuito moltissimo alla costruzione del Pers in Sicilia, che tra luci ed ombre quantomeno aveva messo al centro la questione dell'energia distribuita. Il punto è che poi le questioni definite non sono andate avanti, non sono state finanziate, non c'è stata la possibilità di definire questo piano. La Sicilia in termini di rinnovabili tra le regioni italiane è quella che ha solo il 10% di produzione, mentre noi potremmo, dobbiamo puntare sull'espansione. Quando parlo di progettualità e parlo di puntare su quelle energie a più alto impatto occupazionale, penso naturalmente che il contributo che queste dovranno dare sarà nella necessità di costruire all'interno della nostra regione un'intera filiera produttiva. L'impatto occupazionale dovrà riguardare tutti i segmenti, ma dovrà anche riguardare la possibilità che finalmente coloro che hanno lavorato dietro le quinte o che non hanno potuto al pieno svolgere la propria attività, penso ai tanti centri di ricerca, penso all'Enea, penso al Drip in Balermo, penso a tutti coloro che esprimono delle professionalità che fino a questo momento non hanno potuto dare il loro apporto in maniera compiuta. E questo per noi è importante e fondamentale, anche sotto l'aspetto occupazionale, ma sotto l'aspetto di tante professionalità finora mortificate e penso anche alla necessità che noi abbiamo attraverso delle scelte che non siano finalizzate al potenziamento di una sola misura ma che giochino su tutta la tastiera delle rinnovabili di lavorare in sinergia insieme a tutte quelle imprese che si vogliono sperimentare, che vogliono pensare ai percorsi di riconversione e io credo che questo sia importante per il semplice motivo che di una cosa non abbiamo bisogno in questa nostra benedetta regione di nuove cattedrali nel deserto, di grandi agglomerati, abbiamo aperte le ferite e non credo che non sia facile sanare le ferite di quello che hanno significato e significano ancora alcuni grandi insediamenti industriali, penso a Priolo, penso a Gela, penso a quello che hanno significato in termini di scambio, occupazione e salute. Io non vorrei domani ritrovarmi in una condizione in cui il sindacato e i cittadini ma anche i lavoratori debbano operare una scelta di questo tipo. Significa che di fronte a progetti che vengono avanti bisogna vigilare e noi questo faremo. Bisogna vigilare al di là di tutte le garanzie che i progetti di un certo tipo adesso ci danno su come verranno fatti gli impianti, sul fatto che si dice siano impianti che avranno una durata di cent'anni e quindi non ci sarà bisogno successivamente di smantellarli. Se questi possono in qualche modo inibire negativamente i territori, le parti di territorio in cui verranno collocati. Questo per noi sarà un principio molto importante considerato tra l'altro gli accadimenti che nel nostro Paese giorno dopo giorno ci consegnano purtroppo disperazione, paura e morti. Un'altra questione molto importante quando si parla di costruire, di mettere su una filiera che si apre e si chiuda nella nostra regione è che non vorremmo che alcune scelte portassero all'utilizzo. A partire dai materiali, la dico così in maniera brutale, da tutto ciò che può servire alla costruzione di un impianto di questo tipo al ricorso all'esterno, all'estero, a quelle nazioni d'Europa che già si sono attrezzate, che hanno costruito quello che ci può servire. Noi dobbiamo lavorare nell'immediato perché, e credo che parliamo di tecnologie e di investimenti che ci consentano di utilizzare materiali non solo in termini di materie prime, ma anche di manifattura di questi materiali che è possibile reperire nella nostra regione. Noi queste imprese dobbiamo sostenere, queste imprese devono fare cartello, sono le imprese che ci devono portare anche attraverso la loro affermazione dal punto di vista produttivo a potenziare e soprattutto a sostenere l'occupazione. è chiaro che c'è un tema che è centrale, tra l'altro c'è lo stesso titolo dell'iniziativa la parola territorio, per noi è centrale il territorio, è centrale proprio perché non si determini quel processo di delocalizzazione che io non credo sia impossibile farlo. Il sole ce l'abbiamo noi, abbiamo parlato di progetto Desertec, abbiamo parlato di Africa, abbiamo parlato, parliamo di altri paesi che hanno il sole. E quando noi pensiamo, noi della CGL pensiamo a un ruolo forte della Sicilia all'interno del centro del Mediterraneo, nei rapporti con i paesi dell'euro-mediterraneo, guardate io non vorrei che ci pensassimo in termini di neocolonialismo, così come noi non vogliamo più essere colonizzati da altri paesi europei perché abbiamo tutto ciò che ci serve per realizzare finalmente nella nostra regione gli obiettivi che ci prefiggiamo, non dobbiamo pensare ai paesi del Mediterraneo, cioè non li dobbiamo pensare solo ed esclusivamente ad un mercato che si deve aprire perché se ci devono essere qui, insieme al progetto, delle aziende pilota, delle aziende che hanno il coraggio di aprire un barco, di presentarsi come aziende spin-off e quindi noi le dobbiamo sostenere, non solo economicamente, vengo poi all'ultima parte alla questione delle risorse, non solo economicamente per il progetto che vogliono interpretare ma dobbiamo essere anche in grado di costruire il mercato. Il mercato non è solo quello degli altri paesi, il mercato deve essere anche il nostro perché se c'è un avanzamento complessivo dell'economia, il mercato è quello che noi realizziamo nel momento in cui possiamo avere finalmente nella nostra regione un piano per il turismo, in cui possiamo avere finalmente nella nostra regione tutta una serie di investimenti che non solo possono interessare le strutture alberghiere ma che interessano, devono naturalmente interessare quelli che sono le nostre strutture portanti, le nostre strutture pubbliche, penso alle scuole, penso agli ospedali, penso a come si può realizzare, si possono realizzare dei percorsi di energie alternative che non solo abbattono i costi ma che passano anche attraverso l'efficienza. È chiaro che ci sono due nodi da sciogliere. Il primo nodo è quello che attiene, non indifferente, quello che attiene alla legalità. Noi abbiamo avuto purtroppo nella nostra regione, parlando di energie alternative, penso a quello che è successo per l'eorico, le solite nostre esperienze. Abbiamo bisogno, nel momento in cui si redigono dei protocolli, di garanzie che non passano solo, è importante quello che diceva il rappresentante di Confindustria poco fa, l'informatizzazione della pubblica amministrazione, un registro che dia priorità in effetti e soprattutto che dia risposte in termini di snellimento delle procedure. Per esempio all'interno di Fred è previsto un registro delle imprese che non ha solo lo scopo di mettere dentro le imprese che sono interessate o che possono svolgere quel ruolo. Deve essere un registro di imprese dove ci sia chiarezza e trasparenza rispetto al fatto che quelle imprese che stanno lì dentro, dentro a quel cartello, devono avere le carte in regola perché per noi è importante, è fondamentale, non è una roba da poco. Poi il tema delle risorse. Un progetto così ammizioso ha bisogno delle risorse su cui reggersi. L'importante sarà questa volta, lo dico anche ai candidati alla presidenza della regione, un adeguato utilizzo dei fondi strutturali. Noi abbiamo utilizzato i fondi strutturali purtroppo al 9% circa. Abbiamo 84 milioni di euro che stanno dentro il percorso della rimodulazione che noi a partire da adesso dobbiamo rendere esigibile anche in merito alle energie rinnovabili per finanziare questi progetti, ma il percorso che individuiamo con criteri ben precisi dovrà essere anche un viatico per quello che sarà la nuova programmazione, la programmazione dei nuovi fondi strutturali perché ci deve essere naturalmente un legame perché quello che si inizia ora è un percorso che può essere sotto certi aspetti realizzato anche a breve e a medio termine, ma dovrà essere un percorso molto più lungo. Ma io penso che le risorse non debbano venire solo dai fondi strutturali, penso alle risorse che debbano venire nel momento in cui dal governo nazionale si farà chiarezza su quello che deve essere l'assetto industriale di questo nostro paese e tra questo anche quello relativo alla questione energetica, ad investimenti utili che il governo nazionale deve mettere su questa partita, soprattutto in merito alla riconversione delle imprese perché io non penso solo alla riconversione della piccola impresa, penso alla riconversione della grande industria che può naturalmente tranciare con quello che è stato il passato e mettersi in questo mercato al sostegno che deve venire dal governo nazionale non solo con gli sgravi, con gli incentivi e con i crediti di rimposta ma al sostegno di un governo che ha finalmente idea di dove l'apparato industriale di questo paese, di questa regione deve andare. Poi c'è tutta la partita che riguarda il governo regionale non solo nell'utilizzo appropriato dei fondi strutturali ma anche nella possibilità nel momento in cui si farà chiarezza sul bilancio della regione, chiarezza necessaria non so se partiranno da bilancio zero, non so se finalmente faranno una spending review ma di liberare delle risorse che opportunamente insieme e nel contesto mi convince la partita che riguarda il patto dei sindaci perché quando parliamo di regione non possiamo non dimenticare il ruolo che possono avere su questi progetti anche gli enti locali. Chiudo proprio con una battuta sul sostegno economico sia da parte nazionale che da parte degli enti locali. È chiaro che riprendo il tema dell'intervento necessario su tutta la gamma possibile di una scelta che veda integrate tra loro le diverse tecnologie che devono puntare secondo me a un obiettivo un obiettivo che deve essere comune tra tutti i soggetti che stanno nel territorio tra tutte le imprese che vorranno anche se non facendo parte del territorio utilmente venire ad investire. Un obiettivo che deve essere quello del beneficio della comunità. E mi aggancio quando parlo di beneficio della comunità a quanto diceva il professore Puglisi mandandoci il suo saluto. Ha parlato di una terra solare che gioisce e fruisce di tanto sole ma di aspetti bui che fanno riferimento alle catacombe, ai gesuiti. Allora noi non vorremmo che anche questa partita giusto qui in Sicilia non giovasse solo dell'aspetto aperto, dell'aspetto chiaro, del beneficio della comunità ma che si risolvesse anche attraverso intrighi precostituiti, intrighi che nei sotterrani dove non si pensa a quelli che sono interessi e il benessere della comunità ma agli interessi di pochi. Se così non è, io spero non sarà e anche su questo vigileremo perché così non sarà. La CGL è schierata con questo progetto, sottoscrive naturalmente la carta del sole e il suo impegno in Fred continuerà perché convinti che questa è la strada giusta. Prima di far affermare anche a Mariella Maggio la carta del sole volevo tranquillizzarla per quello che posso fare su qualche piccola nota che lei ha fatto durante il suo intervento. La durata minima è di 25 anni degli impianti perché questo tra l'altro è quello che consente l'incentivazione. Nel momento in cui si dovesse lo smontario dopo i 25 anni tutto è riciclabile, parliamo di vetro, acciaio inossidabile, acciaio ferro, cavi elettrici che possono essere anche essi recuperati per cui tutto viene riciclato, può essere riciclato. Sottoterra potenzialmente rimarrebbero dei plinti in cemento armato ma si sta sviluppando una tecnologia, tra l'altro anche noi abbiamo depositato un brevetto in questo senso per utilizzare delle viti di acciaio che vanno giù per circa due metri, due metri e mezzo nel terreno ci sono delle specie di grossi trapani che fanno questo e nel momento in cui si dovesse smontare tutto non si fa altro che svitare, consentitemi questo termine, e riportare via. Per quanto riguarda le aree siamo d'accordo con Confindustria nell'utilizzare le nuove aree industriali per fare i grossi impianti ricordo però che la tecnologia solare e termodinamica si occupa anche di impianti più piccoli, oggi pomeriggio ne parleranno Antonino Toro di Fera, così introduco anche qualcosa di oggi pomeriggio e Albrigo di Turboden, nonché Orioli di Soltigua che parleranno di impianti medio piccoli, parliamo di impianti da un megawatt, 2 megawatt, anche più piccoli di solo calore e ricordiamoci che anche il solo calore dà poi la possibilità di risparmiare energia elettrica, pensate al solar cooling, penso che oggi ne parleremo cioè che consente di utilizzare una fonte di calore per fare il condizionamento e a questo punto risparmiando energia elettrica invece di far funzionare conosciamo bene tutto quanto il territorio nazionale ma soprattutto la Sicilia è un territorio fortemente antropizzato e nessuno potrà fare tanto per intenderci mega impianti, parliamo di impianti grandi in queste aree soprattutto industriali dove i 20, 30 e 40 megawatt richiedono un territorio diciamo un consumo tra virgolette di territorio che essendo già aree industriali non impatteranno. In ogni caso l'agricoltura potrà essere fatta a differenza, scusatemi ancora un minuto, del fotovoltaico le parabole degli specchi nel solare termodinamico vengono messe a una distanza di 15-18 metri l'uno dall'altro perché altrimenti quando il sole è basso sull'orizzonte ci sarebbe un effetto di ombra sulla fila su seguente per cui le zone non impegnate dallo specchio che sono minime perché se parliamo di cose verticali sono perfettamente utilizzabili dal punto di vista agricolo dal punto di vista del pascolo dal punto di vista delle coltivazioni agricole ultima cosa il motivo per cui siamo qui oggi è proprio perché vogliamo creare una filiera locale pensate sarebbe improbabile quantomeno portare un'azienda che fa impianti elettrici dal Veneto, dalla Lombardia per fare un impianto elettrico in Sicilia oppure un'azienda che fa carpenterie portare un'azienda che fa carpenterie trasportarle noi vogliamo creare qui quantomeno a livello di subfornitura ma poi la subfornitura come in tante attività industriali diventa impresa ancora più grande evolve tecnologicamente anche con componentistiche più sofisticate a dar più alto valore aggiunto per cui volevo tranquillizzarla in questo senso se sono riuscito a farlo grazie comunque dell'adesione che immagino e penso e spero sia anche estesa a livello unitario so che qualche volta i sindacati non sono totalmente uniti ma in questo caso idealmente lo sono grazie grazie ancora bene grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti